Ecco tutto quello che mi porto a Santena per fare il mio Eliagram. Costumi per lo spettacolo, un Oscar perché sono troppo bravo, il copione mio dei tecnici, appunti, USB con le musiche dello spettacolo, computer, hard disk e una braccia per idratarmi e soprattutto l'anima. Ok, let's go! Eccoci arrivati al teatro Elios di Santena. Ehi, 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 prova sì, 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 sì. È così come facevo qualche tempo fa tornando da scuola, magari un po' preoccupato perché ecco, best age, best age della prova generale ci sono le zero readers che ti metto da dicio a Germania Erba, il nostro pubblico che adesso non c'è, ma dopo ci sarà. Ciao. No, 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 no. Il mio prova generale, questo, per una cosa del genere, grazie, 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 grazie. Piccola pausa, sono alla ricerca di una pizza a Santana, qualcosina da mangiare, sono entrato in una pizzeria, mi sembra una pizzeria, pensavo fosse pizza al taglio, ho chiesto fate pizze? Sì, va dalle 7. Manca un'ora anche di scena, lo spuntino per il spettacolo è tutto. Weee, sto riposeando per fare uno spettacolo, ottimale, sto ripassando. Ci siamo, merda, merda, merda! Questa sera faccio l'intensere del pubblico, partirò da qua. Quanto manca Andrea? Mancano 5 minuti, in teoria. Grandi, ciao, Santana! Teatro e...